Sono gesti quotidiani, fare una videoconferenza sul computer, guardare video sul cellulare, scambiare foto con un tablet, ma tutti questi gesti, sommati assieme, hanno un impatto sul clima, a cominciare dalla semplice apertura di una pagina internet. Visitare un sito web emetterà del gas serra. Se si va su un sito di media, semplicemente facendo clic sulla prima pagina si consumeranno già molti dati. In media corrispondono a circa 20-30 metri in auto, solo per aver visitato la prima pagina. Non avete ancora visto un video, non avete ancora letto un articolo e già state emettendo gas serra. All'inizio non sembra tanto, ma quando lo moltiplicate per il numero di persone che possono visitare un sito, 100 milioni di persone al mese, per i grandi siti di notizie francesi ad esempio, si finisce con cifre pari a circa 80 mila chilometri al giorno, solo per le prime pagine. L'80% dei dati trasferiti sulla larghezza di banda viene utilizzato per i video. Maggiore la qualità dell'immagine, maggiore la quantità di CO2 emessa. Il restante 20% è nel complesso per le visualizzazioni di siti web ed email. Con lo sviluppo del telelavoro sono stati sviluppati tanti strumenti digitali e anche qui sono possibili azioni sostenibili. Gli strumenti del telelavoro consumano energia, ad esempio in videoconferenza vengono trasmessi molti dati e rispetto alla quantità di dati relativi a una teleconferenza come questa, basta spegnere entrambe le telecamere e finiremo con consumare appena il 7% della quantità di dati che vengono utilizzati. L'impatto del carbonio sarà solo del 38% rispetto alla stessa videoconferenza in cui le telecamere sono accese. Il settore tecnologico rappresenta attualmente il 2% delle emissioni globali di gas serra. Potrebbe raggiungere il 14% entro il 2040 se le industrie continueranno a crescere senza controllo. Per l'Unione Europea è quindi essenziale fornire un quadro sostenibile per questo progresso. Queste tecnologie debbono essere utilizzate come leva per raggiungere la neutralità carbonica nel 2050.